Ora leggiamo una poesia di Camillo Sbarbaro. Camillo Sbarbaro è un poeta ligure, nasce nel 1888 a Santa Margherita e muore a Spotorno nel 1967. Ora Camillo Sbarbaro è un poeta vociano solo entro certi limiti, per certi aspetti, nel senso che dal punto di vista tematico possiamo sicuramente considerarlo un poeta vociano. Anche in lui c'è un forte dirismo e autobiografia, anche per lui la poesia è espressione della propria voce, è un grido di dolore, però quello che manca in Camillo Sbarbaro, rispetto ad esempio a un poeta come Rebora, è l'aggressività, la violenza linguistica, cioè non è espressionistico dal punto di vista formale. Il suo è uno stile dimesso, prosastico, anti-eloquente, anti-melodico. Diciamo però che rispetto ai Crepuscolari il suo non è un atteggiamento provocatorio, ad esempio anti-dannunziano, ma è proprio uno stile come dire naturale, cioè proprio caratterizza il suo essere Camillo Sbarbaro, ecco, cioè è proprio in lui estremamente naturale utilizzare uno stile dimesso, semplice. La sua poesia infatti si configura come una confessione, un monologo, ecco però è un monologo come dire abbastanza quasi prosaico, senza dobbi esteriori. Infatti la sua poesia, tutto sommato, è anche piuttosto facile, non è così difficile sintatticamente dal punto di vista espressivo come quella di Rebora. Quali sono i temi principali? Bene, allora i temi principali sono, da un lato abbiamo il mito negativo della città moderna che viene avvertita come deserto e come bordello e in qualche modo si contrappone invece alle città dei futuristi. Dall'altro, cioè un altro tema è quello della lacerazione interiore, del dualismo che lui avverte, della battaglia, dello scontro che lui avverte tra la purezza, quindi non so, gli affetti familiari ad esempio, e invece la lussuria, il peccato che viene in qualche modo esemplificato dal bordello, ecco dal lupanare cittadino. Il tema della frantumazione e della crisi di identità, che è un tema come sappiamo del primo novecento, caratterizza autori come Pirandello e lo ritroviamo ad esempio anche qua in Camillo Sbarbaro. Poi ci sono dei temi che rappresentano invece dei punti di fuga, ecco ad esempio il paesaggio ligure, quindi insomma la vena paesaggistica, la bellezza del paesaggio ligure, che rappresenta una sorta di evasione, a volte anche attraverso il tema del ricordo, a volte anche semplicemente proprio per la descrizione dei paesaggi. E poi anche il tema amoroso, che anche in questo caso anch'esso rappresenta come dire una sorta di fuga da quei temi che abbiamo visto prima, che in qualche modo invece rappresentano temi più problematici, più dolorosi, ecco, più negativi. Abbiamo però un tema molto interessante, oltre a questi, che è il tema della atonia vitale. È un tema che viene poi ripreso da Montale, a Montale piaceva Sbarbaro e in effetti alcune poesie di Montale sono ispirate ad atmosfere, alle atmosfere di Sbarbaro, ad alcune atmosfere di Sbarbaro. Ecco, il tema della tonia vitale che cosa vuol dire? Che il poeta avverte un'aridità interiore, si sente come pietrificato, si sente indifferente nei confronti di quello che gli scorre intorno, alla vita che conduce giorno per giorno, al quotidiano cittadino. Allora, in qualche modo, vedete che siamo sempre un po' nel tema dell'alienazione, quindi di un rapporto malato, non autentico con la città, se vogliamo, anche con la modernità. Ecco, e quindi questo tema dell'atonia, dell'indifferenza, del non sentire, del non avere delle pulsioni emotive, delle pulsioni emotive. Di Sbarbaro leggiamo una poesia intitolata Taci, Anima stanca di godere, ed è una poesia che fa parte di una raccolta intitolata Pianissimo. Ecco, il titolo della raccolta è significativo, perché ci parla di un atteggiamento dimesso, non esibito da parte del poeta. Quindi la poesia è qualcosa che viene sussurrato, pronunciato a voce bassa, ecco, non urlato in maniera forte, altisonante, con voce alta e addirittura aggressiva, no? Forte e aggressiva. Altri titoli anche sono significativi allo stesso modo, come ad esempio Trucioli, no? Ecco, Resine. Quindi vedete questo atteggiamento manifestato anche dai titoli delle raccolte poetiche del poeta. Leggiamo il testo. Taci, Anima stanca di godere, e di soffrire, all'uno e all'altro vai rassegnata. Nessuna voce tua odo se ascolto, non di rimpianto per la miserabile giovinezza, non di ira o di speranza, e neppure di tedio. Giaci come il corpo, ammutolita, tutta piena di una rassegnazione disperata. Bene, come vedete, il lessico e la sintassi è molto più semplice, molto più piana della poesia di di Rebora, no? È una poesia piuttosto anche prosaica dal punto di vista della scelta lessicale e della sintassi, ed è in linea appunto con quello che prima dicevamo, no? Cioè non c'è espressionismo, non c'è espressionismo sintattico e lessicale. Bene, prima notazione importante, taci. Allora, taci è un verbo all'indicativo. Tu taci. Esprime un modo di essere, uno status dell'anima. L'anima tace. è stanca di godere e di soffrire. All'una e all'altro vai rassegnata. Cosa vuol dire? Ti avvicini, ti approssimi, vai in direzione del godere, vai in direzione del soffrire, ma ti accosti a queste sensazioni antitetiche in maniera rassegnata. Cioè, cosa vuol dire? Che l'anima è senza vita, è, diciamo, priva di emozioni. Qua si esprime il tema della atonia vitale, dell'aridità interiore. Il poeta è come pietrificato, l'anima del poeta è come pietrificata, no? Non avverte emozioni, non ha impulsi. Nessuna voce tua ha odo se ascolto. Ecco, l'anima è silenziosa, è muta come una pietra. Infatti non, il poeta non ascolta nessuna voce provenire da lei, nessuna voce di rimpianto per la miserabile giovinezza, nessuna voce di ira o di speranza e anche nessuna voce di tedio. Questi possono essere temi, no, della poesia. Ecco, il poeta invece sembra quasi non avere nessun impulso verso questi temi. L'anima non prova nessun impulso emotivo, no? Nessuna emozione. Infatti giaci, giaci come il corpo, ammutolita, tutta piena di una rassegnazione disperata. Ecco, questo è lo stato d'animo del poeta. Il poeta alienato, se vogliamo utilizzare una parola che abbiamo già sfruttato per, in qualche modo, parlare della poesia del primo novecento. Un poeta che si sente totalmente vuoto dentro, privo di emozioni, privo di pulsioni, totalmente indifferente, per usare poi anche un termine che verrà utilizzato da Montale qualche anno dopo. Quindi ecco, si esprime questa atonia, questa aridità interiore. Non ci stupiremmo, non è vero, mia anima, se il cuore si fermasse, sospeso se ci fosse il fiato. Ecco, non ci sarebbe nulla da stupirsi se il cuore si fermasse, se non respirassimo più. Perché? Perché noi siamo già morti. Cioè, il poeta vive in una condizione che è quella del morto, come dirà subito dopo, del sonnambulo. Quindi non c'è nessuno, se ci venisse tolto il fiato, non ci sarebbe nessun passaggio dalla condizione attuale a quella della morte fisica, perché siamo morti, siamo morti dentro e quindi viviamo in questa condizione di pietra che cammina. Invece camminiamo, camminiamo iete come sonnambuli. Ecco, quindi vedete che appunto la condizione dell'uomo moderno, contemporaneo, è quella del sonnambulo. E gli alberi sono alberi, le case sono case, le donne che passano sono donne e tutto è quello che è, soltanto quel che è. È interessante questo passaggio perché ci dice che noi possiamo anche essere in attesa di qualcosa di miracoloso che salvi la nostra esistenza, la nostra vita, che la illumini. Questo sarà poi un tema ripreso da Montale, anche questo, perché abbiamo visto anche quello dell'atonia, dell'indifferenza. Ecco, dicevo, noi siamo protesi verso qualcosa che salvi la nostra vita. Montale parlerà di miracolo, di tensione verso il miracolo. Invece, ecco, non c'è nulla di miracoloso. Noi possiamo sperare, aspettarci, desiderare, ambire al fatto che la vita sia in realtà una finzione, ma una volta rotto il velo della finzione possiamo trovare veramente qualcosa di autentico. Invece non c'è nessuna autenticità. O meglio, è tutto autentico, ma è autentico proprio quello che stiamo vivendo. Questo quotidiano in colore, dimesso, caratterizzato dall'atonia, caratterizzato dalla totale privazione di ogni emozione, di ogni pulsione. È questa la realtà. Gli alberi sono alberi, le case sono case, le donne sono donne. Non c'è nulla, no, di dietro questo schermo che è la realtà in cui viviamo ogni giorno. La vicenda di gioia e di dolore non ci tocca. perduto ha la voce la sirena del mondo e il mondo è un grande deserto. Ecco, il poeta non è un fanciullino che guarda con meraviglia ciò che gli sta intorno ed è, come dire, proteso all'incanto del mondo. No, perché la vicenda di gioia e dolore non ci tocca, ma soprattutto, vedete, la sirena del mondo ha perduto la sua voce. La voce delle sirene che incantano Ulisse, la voce delle sirene che incantano il pellegrino, il navigante, l'uomo, ha perduto la sua voce. Non c'è nulla di questo incanto, non c'è nulla di meraviglioso. La realtà in cui viviamo è una realtà priva di incanto e di meraviglia e il mondo è un grande deserto. Ecco, no, questa è sicuramente una immagine molto significativa. La vita è deserto, è squallida, no, è dimessa. Farei anche notare come la parola deserto venga isolata nel verso e come lei anche altre parole che sono particolarmente significative e acquistano quindi una valenza particolare, no? Vedete? Rassegnata, giaci, fiato, deserto. Deserto poi chiaramente viene anche ripetuta. Nel deserto io guardo con asciutti occhi me stesso. Ecco, questi asciutti occhi sono gli occhi senza lacrime di chi guarda senza provare nessuna emozione, neanche un'emozione di tristezza, di malinconia, no? Ecco, il poeta non ha più neanche le lacrime, la commozione di fronte a qualcosa che è caratterizzato come deserto, no? Di fronte alla vita che si caratterizza come deserto.